Buongiorno signore e signori, io sono il Duca di Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Potete trovare i miei corsi online su agenziaduca.it oppure guardate nel box di descrizione di questo video. Allora, oggi abbiamo una domanda molto interessante. Prima però faccio un sorso della bevanda ovviamente su Prematista Bianca in quanto ultra white. Quindi possiamo già intuire che tipo di range nel suo bouquet dei sapori e degli odori potrebbe avere. Spero di non essere troppo tecnico con la classificazione dei sapori usata nella situazione italiana sommelier, ma questo è palesemente scroto di Göring. Bene. Allora, vediamo la domanda di oggi. Passare dalla prima alla terza persona e viceversa. Mi scrive Stefania. Ah, domanda vecchissima. Nel frattempo Stefania è diventata corsista, va bene. Vai, rispondiamo lo stesso. Molto interessante il tuo video, grazie. Che ne pensi di un passaggio dalla terza persona focalizzata alla prima persona? Potresti suggerirci romanzi in cui questo o anche il contrario, dalla prima alla terza, sicuramente meno consigliabile perché più straniante si verifichi? Può essere utile? In quali casi? Grazie. E vi leggo anche un commento collegato di Akai Sama. Da lettore, quando mi ritrovo con troppi punti di vista, percepisco la narrazione come molto dispersiva vedasi il trono di spade. Da lettore di thriller mi ha lasciato per presso l'espediente adottato a James Patterson nella sua serie su Alex Cross. Romanzi in terza persona, con però i capitoli del protagonista in prima persona. L'ho trovato straniante e bizzarro. Va bene, allora, Stefania, che in realtà tu la risposta ce l'hai già avuta facendo il corso avanzato, quindi hai già capito. Però facciamola per gli altri. Allora. Vabbè, su suggerirti romanzi in cui accade questo o anche il contrario sti cazzi, la roba che ti ha detto Akai Sama, quindi la serie di Alex Cross, Alex Cross, di James Patterson. Che non è quella delle medie, è un'altra. Oddio. Ok, comunque non le ho lette, quindi non potrei dirti niente. Ho giusto avuto un attimo un vago lampo di cose di Patterson. Informatevi voi, non guardo io. Al momento non mi interessa. Allora, guarda. Tu mi chiedi, può essere utile in quali casi, eccetera, eccetera. Allora. Non può essere utile, non è utile, non serve assolutamente a niente. Come hai visto, la terza persona è una cosa che si può fare benissimo, se avete voglia fatela. Ci sono degli imbecilli catatonici, dei ritardati generati probabilmente da persone che vivono palesemente prostituendo il proprio corpo per comprare eroina, perché solo in questo modo si può definire l'eventuale metaforica parentela di certi individui, che dicono che secondo me la terza persona non vada mai scritta e fa schifo. Peccato che faccio una caterva di video sulla terza persona spiegandovi che potete benissimo scriverla, ma è difficilissimo e quindi è stupido fare una cosa incredibilmente difficile, che richiede molta più fatica, e se voi vi straniate, dilagnate le carni, distruggete la mente per farlo, otterrete lo stesso risultato nel migliore dell'ipotesi della prima persona. Ma non, detto che non si può fare. C'è anche un'oggettività dei fatti a un certo punto. Poi capisco che chi deriva anche a livello di parenteli, no, genetriaco, tutte queste cose qui, no, da persone che prostiscono il proprio corpo, hanno la mente distrutta all'eroina, ovviamente possa non capirlo. Però a un certo punto smettete di pensare come dei figli di puttana tossicodipendenti, ok? Sarebbe carino. Bene. Allora, questo detto per gli imbecilli che commentavano altri video, non qui perché non ho le palle di mettere i commenti sotto i video, ma commentano da altre parti, mi è stato riferito, non guardo quei commenti, perché francamente quando si è occupato a portare a successo altri autori, a rendere incredibilmente felici, a pubblicarli, eccetera, i catatonici che non stanno conseguendo niente nella vita non sono esattamente il tuo ambiente. Ottieni certe cose perché non sei in quegli ambienti, chi è in quegli ambienti è perché non ottieni certe cose. Terra, terra. Quindi, torniamo a questa questione. Terza persona? Per me la terza persona va benissimo. Se hai una predisposizione a praticare la via crucis come forma di narrativa e ti percuoti, trasporti croce e quella roba lì assolutamente, ottima, anzi, ti consiglio anche una spugna di aceto se vuoi. Quindi, torniamo invece al discorso dell'alternare prima e terza. Perché dovresti farlo? Motivi non ce ne sono. La terza si scrive esattamente come la prima. Chi non ha capito che la terza e la prima sono la stessa cosa, ma la terza è scritta in terza, la prima è scritta in primo, è un cretino. Non c'è tanta altra roba, eh? La narrativa è immersiva, è narrativa immersiva. Se tu poi la tramuti in terza, tanto in realtà la terza avrebbe dei problemi per cui sconsigliabili oltre a quelli tecnici. Allora, qualcuno di voi si è mai preso la briga prima di aprire bocca sulla narrativa su come funziona la mente umana, visto che la mente umana percepisce, legge e usa quella narrativa? Probabilmente no. Quelli che parlano tanto di terza è perché sono di un'ignoranza imbarazzante, se non vomitevole, di neuroscienze. Voi dovete sapere, ma questo ne parlerò in modo più preciso in futuro, che la nostra mente a livello inconscio non distingue il vero dal falso. E la ripetizione di cose, ad esempio ci sono tecniche di immaginazione utilizzate in ambito cognitivo-comportamentale per aiutare a superare le fobie, le ansie, eccetera. Immaginare scenari simili a quello che ti fa paura e immaginare quei scenari di avere successo di affrontare la paura o affrontare l'ansia, affrontare quello che vuoi. Perché la nostra mente è addestrata a percepire una cosa, non distingue un'invenzione, se adeguatamente vivida, da un ricordo vero. E il ripetere il ricordo, che può essere un ricordo inventato, va a riprogrammare la nostra mente, se vogliamo usare questa metafora della programmazione, che comunque in relazione al funzionamento dei cianchi di memoria, come vengono creati le nuche della base, non è sbagliata. Va a riprogrammare, tra virgolette, la nostra mente e abituarci a fare cose che prima non poteva fare. Pensate a chi è in una situazione sempre più brutta, perché ha loop di pensiero negativi ed entri in uno stato a un certo punto di depressione, con loop sempre più negativi, tutto quanto si innesca partendo da certi loop, che poi diventano magari incontrollabili, non è possibile uscirne. Casi in cui ovviamente la cognitivo comportamentale non si può applicare, perché nel momento in cui la razionalità è annullata, un procedimento che è scusamente razionale non può intervenire, in quel caso ovviamente, citando Dryden in... in... ah, proprio qua. Trasforma otto emozioni letali, se sei in certe situazioni, prima si interviene dal medico, con gli psicofarmaci, si stabilizza, poi si potrà intervenire a fare un altro tipo di lavoro mentale che il psicofarmaco non sostituisce. Comunque, poi vi ho detto, vi parlerò in modo più approfondito di perché la prima persona, per ciò che le neuroscienze ci dicono, ha un valore etico di trasformazione interiore, di immersività, perché l'immersività ha uno scopo, il divenire l'altro, divenire l'altro per imparare dalla vita degli altri. Signore, se avete capito questa cosa non leggete romanzi, eh. Signore, che cazzo. Che poi sono cose spiegate nel teatro greco, queste qua. In prima l'effetto è molto più forte che in terza, perché in terza, in terza non è la stessa cosa, non sei tu. Tu dici, ma non sei tu neanche in narrativa, è vero. Ma intanto stai usando l'io. E' per questo che fa così tanto bene leggere, figuratevi addirittura in prima persona, ma leggere storie potenzianti di donne di successo, che donne che ce l'hanno fatta, nonostante tutto, per le ragazzine. E avere esempi femminili è importante, perché essendo loro donne, possono vedersi in quegli esempi. Se gli altri ce l'hanno fatta, anch'io posso farcela. Storie in prima persona che portino archi eroici, possono dare la forza a chi legge per fare cambiamenti e miglioramenti nella propria vita. Storie tragiche possono ammonire che legge. Sono proprio le classiche storie ammonitrici, eh. In inglese, è presente a Couch and a Retail una storia ammonitrice. Non lo scrivevano per caso nell'Ottocento e cose simili. Storie ammonitrici servono, ma è lo scopo per esempio della tragedia Shakespeare o del teatro greco, a ammonirci sul non percorrere certe strade, a dirci, va bene, quella direzione, quel non cambiare, quell'andare in radicalizzarsi, in pensieri sbagliati, porta alla distruzione. Comunque ci torniamo in futuro, non so se qui nel canale è gratuito, se in una live futura, a breve comincio a fare le live pubbliche, se in un contenuto a pagamento, non lo so, ma ci torniamo, probabilmente sarà qualcosa di gratuito. Comunque, torniamo invece alla questione dell'alternare terza e prima. Abbiamo fatto il discorso del perché la terza si può fare benissimo, fatela, fate quello che volete, lottate contro gli ultimi cento anni di ricerca scientifica, se vi fa piacere, è una vostra scelta, siete i novax della narrativa, scrivete in terza persona. Potete farlo benissimo, non me ne frega un cazzo. Io ad esempio sono in grado di scrivere in terza persona bene quanto in prima. Quindi non è che vi sto a dire non imparate a farlo, io l'ho imparato. L'ho imparato per necessità, lavorando con gli autori. Comunque dicevo, perché non passare da terza a prima e viceversa? Allora facciamo così, immagina che ci sono delle persone, più o meno fallite, più o meno catatoniche, che ti dicono, io la terza non la leggerei mai, io queste persone le prenderei a sberle. Io ho letto un sacco di romanzi bellissimi in terza persona, bellissimi come contenuti, però la scrittura è quello che è, ok? E anche alcuni non niente male come scrittura. Penso ad esempio che non sono niente male il secondo, terzo e quarto di Eterno Albuo, Livio Gambarini. Comunque sopra la media editoriale anche il primo. Sono in terza, ok? Beh, è una terza scritta in modo veramente eccezionale, veramente eccellente per essere una terza. Alienicoporofagi dallo spazio profondo, di Marco Cresciz. Quindi, ok? Dicevo, alcune persone ti posso dire, io la terza non la leggo mai assolutamente, perché no? Leggo sull'imprima perché sono un fallito catatonico, vivono i miei liquami e quelle robe lì. Oddio, sono delle teste di cazzo. Pensieri così rigidi? Criteri rigidi, falsi, irrazionali, malattia mentale. Criteri flessibili, logici, veri. Approccio sano all'emotività. Ok, magari non parliamo di criteri, di cose che vengono dalle spiegazioni sulla terapia cognitivo-comportamentale, magari effettivamente potrei anche evitare. Ah, se vi interessa comunque, il libro di Dryden. Ah, non è un bel libro, eh? Sì, carino. C'è di molto meglio. Vi consiglierei piuttosto Ellis. Che rabbia, che ansia. L'autoterapia razionale emotiva, comportamentale. Non mi ricordo se il titolo aveva qualcos'altro all'interno. Ed è sempre quel libro di cui vi dicono qui il cartaccio, ogni volta mi dimentico di rimettere qui il cartaccio. Non lo vedrete mai quel cartaccio, signori, mi spiace. Lo dimentico ogni volta. Bene. E allo stesso modo puoi trovare persone altrettanto catatoniche, altrettanto fallite, che diranno, ho letto sempre in terza perché leggo romanzi di merda in terza e magari me la racconto pure che sono un grande appassionato di fantascienza, nonostante sia pieno zeppo di urania in prima. E io la prima non leggerò manco morto. Ora, tu hai una fetta di persone che leggono, che prendono il tuo romanzo e dicono Ah, l'argomento mi interessa. È ambientato in un mondo che ricorda la terra di mezzo, in una grande fortezza nanica che sta lottando contro un male profondo che ha risvegliato e mi ricorda Moria, il Moria al tempo in cui è caduta, o robe di Warhammer equivalenti, e è pieno di nani che se lo buttò nel culo perché le donne non esistono. Mamma mia che bello. Poi guardi ancora meglio la storia e dice A cavolo, la protagonista è un elfo oscura maledetta dal fatto di avere le bocce che sembrano fatte con protesi di silicone enormi e finisce in questa fortezza dove però a nessuno interessa del suo corpo e della sua sessualità incredibilmente prorompente perché lei è affetta da iperattività sessuale. Che si manifesta anche in una maggiore quantità di peli corporei per cui deve continuamente anche sparsi la ceretta. E i nani non sanno cos'è la ceretta, loro si radono con le loro asce e quindi le sta diventando sempre più pelosa. Ok. Non è una bella trama, è una di quelle cose brutte che potrei scrivere io e quindi non è esattamente edificante. Comunque, dicevo, in questo caso è visto che la storia ti piace se è un catatonico fallito che leggerebbe soltanto in prima persona è questa fisima, io non ce l'ho picchierei chiunque ce l'ha se qualcuno di voi ce l'ha mettetevi in fila vedo una sberla quindi leggersi solo in prima e parte in prima e tu dici Ah che bello! Parte in prima ovviamente i romanzi sono scritti o in prima o in terza questo è scritto in prima quindi è un romanzo in prima e tutto contento comincia a leggerlo poi uno, due, tre capitoli dopo quando è diventa in terza e tu ti incazzi e su Amazon diventa l'argomento e la storia perfettamente in linea con me anche ben scritto ma questa cosa del passare da prima a terza veramente non l'ho capita secondo me la terza fa veramente no scusate, secondo me la terza fa veramente cagarsi perché è un fallito che legge in prima e basta la terza fa veramente cagare e quindi nonostante tutto non posso dargli più di due stelle su cinque vuoi un due su cinque? perché il discorso si fa anche all'opposto magari apre a caso può essere inizio, può essere un altro punto ed era in terza e lui ama la terza e non accetta di leggere in prima perché è un fallito catatonico di uguale gravità dell'altro tipo ok? e quindi? e quindi succede che visto che questi due falliti catatonici esistono per quanto siano pochi e poi c'è il terzo tipo che non sono proprio falliti catatonici ma giustamente dicono ma scusa ma io stavo leggendo un romanzo in prima ma perché è diventato un terza? oppure al contrario stavo leggendo un romanzo in terza ma se io volevo leggere un romanzo in prima non ho niente con i romanzi in prima ma se avessi voluto leggere un romanzo in prima l'avessi scelto in prima e poi c'è una cosa che si chiama patto con il lettore e il patto con il lettore è dichiarato nel primo capitolo e il patto con il lettore include come narrerai? prima al presente terza al passato cioè almeno dammi una giustificazione stai facendo in prima al presente tutto? tranne ricordi nei sogni che sono in terza al passato? oddio ma perché? ma capisci che il lettore a un certo punto anche quelli che non hanno dei blocchi particolari ma sono spiazzati stanno leggendo in un modo e poi in un altro stai guardando Fantozzi e a un certo punto Fantozzi apre la porta di casa per andare in nuova prendere il tram andare al lavoro e la porta si apre sulla giungla e Fantozzi adesso è coperto di colorante nero ha un sigaro in bocca e gli sono venuti i muscoli ma la faccia sempre quella di Paolo Villaggio e ha un fucile d'assalto in mano e con la sua squadra il suo vice ovviamente è Filini devono affrontare Predator nella giungla signore c'è un problema chiaro? tu non volevi quello tu volevi quell'altro stavi leggendo in primo che è che non odi la terza? ma stavi leggendo in prima cazzo? e idem se stai leggendo in terza ti aspetti che prosegui in terza è perlomeno straniante poi capisco che è molto meno traumatico di quello che proprio la detesta e si trova il cambiamento ma è straniante e cos'è successo? che hai fatto incazzare un gruppo di pubblico un altro gruppo di pubblico un terzo gruppo di pubblico io ti chiedo ma quando sei stronzo? perché chiedi tra un certo punto sei autolesionista perché il danno te lo causi con il loro eccezione all'incazzatura è stronzo perché queste persone avevano il diritto di leggere un romanzo che gli è stato presentato in un certo modo e poi non lo era ti sembra una cosa carina da fare alle persone? li hai convinti a prendere quel libro a fare un tentativo magari il primo libro che poi non leggono da mesi e li hai delusi e poi ci lamentiamo di quelli che non leggono neanche un libro all'anno e poi all'Istat rispondono che non leggono perché hanno provato e fanno obiettivamente schifo eh signori è quasi il 30% dei non lettori che lo dice che hanno trovato il libro che volevano parlava esattamente dell'argomento che volevano erano interessati a leggere avevano tempo a leggere non trovano faticoso leggere in pratica porca puttana o disperatamente bisognosi di leggere volevano leggere e si sono trovati a mollare perché faceva pena al cazzo di solito non si tratta per come è scritto male perché lì tipicamente le persone non riescono a capirlo si tratta di argomenti stupidi danate poi si c'è anche una componente scritta molto male magari uno li molla e non sa perché egli essendo un residuale ricadeva in quello perché c'era anche la domanda per l'idea fatta da Istat che riguardava il è scritto troppo difficile forse è stato quello avevo risposto questo è il residuale del fa schifo perché piano bene allora quindi utilità non ce ne sono caso in cui farlo non ce ne sono per favore non farlo non ci sono scuse non c'è roba è un raccontarsela bla 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 tutte robe lì e soprattutto andarti fustinate sui coglioni così da solo ok Stefania bene spero di essere stato abbastanza chiaro e alla prossima grazie a tutti